E domenica, 15 settembre, torna Via Libera, iniziativa del Comune di Roma per spingere a sensibilizzare i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta, qui vedete la nostra sindaca sempre pronta nei momenti fondamentali dell'attività del Comune, con una serie di piste ciclopedonalizzate per un complessivo di 15 km di strade, che adesso vedremo nella cartina dalle 10 alle 19, vedete tutto il percorso che parte da Via Riccola di Dienzo, va a Via del Corso, Piazza Venezia, poi Via di San Gregorio, Via Labbicana, vedete Via Le Manzoni, Via di Burtina, Via Regina Elena e così via, veramente un piccolo anello intorno al centro di Roma, tutto ciclopedonale, ovviamente per la gioia di chi ama la bicicletta e per l'angustia di chi invece avrà la macchina bloccata, ma insomma una domenica e si può fare, chi non va in bicicletta se ne andrà a passeggio.